Un saluto a tutti e tutte, questo è un video fatto così, improvvisato. Vi ricordo palloni meteo italiani e satelliti, bai dino, palloni sonda o meteo, bai dino, sempre su indice alfabetico, dove appunto si parla del lancio di palloni meteo che rilevano e fanno le misurazioni. Ovviamente molti diranno no, non è vero, andiamo a fare proprio una cosa in diretta, non so, andiamo in Italia, partiamo da Madrid, sono sul sito windy.com, dove qui vediamo le telecamere, le località, la lascio aperta un po' larga in modo che va a vedere un po' l'Europa. Andiamo a Madrid, clicchiamo col tasto destro, scandagliamento Madrid, le radiosonde per le misurazioni più vicine a 18 km, Madrid, Barajas, 13 ore fa, Santander, 1 ora e 5 minuti fa, Mursia, 1 ora e 5 minuti fa. Perché 1 ora e 5 minuti fa? Perché vengono lanciate due volte al giorno, le sonde, col tempo universale, vale a dire noi in Italia sono le 14, adesso l'ora universale è un'ora fa, sarebbero state le 12. Vabbè, Dino, ma tu ti inventi le cose. No, andiamo proprio, non so, mi vengono in mente, che so, Bruxelles, vediamo un po' Bruxelles, scandagliamento. È stato fatto 13 ore fa, 2 ore fa, vedete che le località sono molte di più, perché? Perché si trova più lontano Bruxelles dai punti degli aeroporti più importanti, pertanto vedete 13 ore fa, 1 ora fa, 4 giorni fa, 13 ore fa, 14 ore fa, vedete che le città, cioè queste misurazioni delle radiosonde non sono state fatte dai satelliti, ma sono state fatte con le radiosonde, lo si vede apertamente e vediamo se riusciamo ad andare in Italia, magari allarghiamo un po', ciò che arriva arriva, non mi interessa molto, non so, Foggia, mi piace Foggia? Scandagliamento, da dove è stato fatto, da dove sono state fatte le misurazioni? 2 ore fa da Lecce, pratica di mare, 2 ore fa, 8 giorni fa, 1 ora fa. Ovviamente perché cambiano queste misurazioni delle sonde? Perché da come va il vento? Ovviamente l'ultima misurazione potrebbe essere stata fatta, che ne so, tempo fa. Facciamo un'ultima prova, Prato, Prato, le misurazioni delle sonde, 2 ore fa, San Pietro, Capo di Fiume, Vigna di Valle, 8 giorni fa, 2 ore fa, Novara, pratica di mare, 2 ore fa, Udine, come vedete questi scandagliamenti, gli scandagliamenti vuol dire le misurazioni, vengono fatte non dai satelliti ma dalle sonde. Nello spazio hanno inviato solo la vostra fantasia, i satelliti per quale motivo dovrebbero esistere se gli scandagliamenti di tutte le zone vengono fatte da parti diverse, cioè non dai satelliti, ma andiamo anche qua, non era l'ultima, vediamo. La misurazione viene fatta da 91 km, 113 da Lubiana, non ho neanche visto che cosa ho cliccato ma fa niente. E vai, grazie di aver guardato.